Una cosa è certa, se i playoff cominciassero domani, l'Arezzo non avrebbe alcuna chance. La terza sconfitta consecutiva, che fa cadere anche l'imbattibilità casalinga, toglie le residue certezze ad un gruppo che sembra aver già tirato i remi in barca ed esaspera ancora di più un ambiente depresso e deluso per una stagione buttata via. Il finale di campionato, che doveva servire per preparare gli spareggi, si è trasformato in una lenta agonia. In tre settimane l'Arezzo ha perso due posizioni, scivolando dalla secondo al quarto posto e mettendo a serio rischio la possibilità di giocare in casa all'ottavo di finale. La classifica piange, il gioco pure. Il calcio propositivo, teorizzato da Chiappini al suo arrivo, si è visto solo a sprazzi. Le tre vittorie di fila contro Flamini, Affiesole e Trestin avevano dato l'illusione che un processo di crescita fosse in atto. Il capo di Foligno è nascato un cortocircuito tecnico e mentale, dal quale la squadra non si è ripresa. Chiappini ha definito la prestazione contro la Colligiana, inguardabile nel primo tempo e confusionara nella ripresa. Giudizio condivisibile. A noi, aggiungiamo, ha ricordato prestazioni di mezzanottiana memoria. Soprattutto per quel secondo tempo, giocato dopo aver subito il gol all'arma bianca, senza schemi e con scarsa lucidità. Nella confusione, almeno un paio di occasioni limpide per pareggiare l'Arezzo ce le avute, ma ha confermato la tavica difficoltà a segnare. Emblematica l'occasione, sprecata da Invernizia al rientro dopo tre mesi. L'unica nota positiva del pomeriggio è il ritorno di Cubillos. Il colombiano apparso agile, ha sfiorato il gol e dispensato qualche assist e non sfruttato dai compagni. Da qui al 18 maggio potrà crescere di condizione minutaggio, perché appine un'arma in più a patto di ritrovare la squadra. L'allenatore ha l'attenuato di aver ereditato una situazione compromessa, ma se l'obiettivo era restituire motivazione ai giocatori non c'è riuscito. Sul piano tattico l'Arezzo rimane un cantiere aperto. Se il modulo è una certezza, gli interpreti no. Soprattutto nei ruoli chiave del 4-3-1-2, e cioè il regista davanti alla difesa del trequartista. Ieri è toccato rispettivamente Dromel e Rubecchini, non esattamente a proprio agio, in quella zona del campo. Al play-off l'Arezzo ci arriva con tanti dubbi e pochissime certezze. Fosse per i tifosi, la chiuderebbero qua la stagione. A Ferretti hanno chiesto un bel repulisti e saranno accontentati. Prima però questo gruppo ha il dovere di provare almeno a salvare la faccia. Grazie.